Questi sono infamie sociali, volute a tavolino da questo disegno criminale di gente che per accumulare al vertice 12 miliardi di dollari o un miliardo di euro o 5 miliardi di euro in gruppi ristretti di 200 persone, fanno vivere milioni di persone in queste condizioni, nell'unica vita che hanno, perché non avranno un'altra, hanno questa. Grazie.